Queste parole mi riportarono ai tempi ben più lontani dell'epoca in cui amavo Gilberto. Ai tempi in cui l'amore mi sembrava un'entità non semplicemente esterna ma realizzabile. Mentre Gilberto che vedevo ai Champs-Élysées era un'altra rispetto a quella che ritrovavo in me quando ero solo. Adesso dico un po' nell'Albertine reale quella che vedevo ogni giorno. Che credevo piena di pregiudizi borghesi e sempre sincera con sua zia. S'era incarnata l'Albertine e immaginaria quella della quale quando ancora non la conoscevo. M'era apparso d'essere furtivamente so guardato sulla diga. Quella che vedendomi andare via era ricasata si sarebbe detto a mali in cuore, a mali in cuore. Queste parole mi riportarono ai tempi ben più lontani dell'epoca in cui amavo Gilberto. Grazie a tutti.